Capitolo 3 Dopo aver disfatto le valigie, andai dritta in piscina dove sapevo di trovare i ragazzi. Erano a poltrire sui lettini con i piadi sporchi che sporgevano dal bordo. Non appena mi vide, Jeremiah si alzò di scatto. «Signori, signori!» cominciò, inchinandosi come un direttore di circo. «Credo proprio che per belli sia arrivato il momento del primo tuffo dell'estate!» Mi allontanai da loro a piccoli passi, un movimento troppo svelto e sarebbe stata la fine. Si sarebbero messi a inseguirmi. «Scordatevelo!» Allora si alzarono anche Conrad e Steven, accerchiandomi. «Non puoi opporti alla tradizione!» disse Steven. Conrad si limitò a rivolgermi un sorriso malefico. «Ormai sono grande!» replicai. Arretrai e fu allora che mi afferrarono. Steven e Jeremiah mi presero per i polsi. «Dai ragazzi!» dissi, cercando di liberarmi dalla loro stretta. Strescicai i piedi, ma loro mi tirarono per le braccia. Sapevo che era inutile fare resistenza, ma ci provavo sempre, anche se tutto quello che ottenevo era grattugiarmi i piedi sulla pavimentazione. «Pronta?» chiese Jeremiah, sollevandomi da sotto le ascelle. Conrad mi afferrò i piedi e poi Steven mi prese per il braccio destro, mentre Jeremiah agguantò il sinistro. Mi fecero oscillare avanti e indietro come fossi un sacco di farina. «Vi odio!» gridai, sovrastando le loro risate. «Uno!» iniziò Jeremiah. «Due!» proseguì Steven. «E tre!» concluse Conrad. Poi mi gettarono nella piscina, con i vestiti e tutto il resto. Piombai in acqua con un forte colpo. Sott'acqua li sentii ridere a crepapelle. Quella tradizione aveva avuto inizio un milione di estati prima. Probabilmente era stata un'idea di Steven. La odiavo. Anche se era una delle poche occasioni in cui venivo inclusa nel loro divertimento, odiavo farne le spese. Mi faceva sentire del tutto impotente e mi ricordava quanto fossi un'estranea, troppo debole per combatterli, perché ero una femmina, la sorellina di un amico. Un tempo piangevo. Correvo da Susanna e mia madre, ma non serviva niente. I ragazzi mi davano della spiona. Non stavolta, però. Stavolta sarei stata allo scherzo, così forse gli avrei tolto un po' di piacere. Quando tornai in superficie, sorrisi e dissi «Vi comportate come bambini di dieci anni!» «E lo faremo per tutta la vita!» rispose con fierezza Steven. La sua faccia compiaciuta mi fece venire voglia di schizzarlo. e infradiciare lui e i suoi preziosi occhiali da sole di Hugo Boss, che aveva potuto permettersi con tre settimane di lavoro. Poi dissi «Credo che tu mi abbia fatto storcere la caviglia, Conrad!» Fensi di avere problemi a nuotare fino a loro. Conrad raggiunse il bordo della piscina. «Sono sicuro che sopravviverai», rispose con un sorrisetto. «Per lo meno aiutami a uscire!» insistetti io. Lui si accovacciò e allungò la mano. Io gliela presi. «Grazie!» dissi con aria intontita. Poi gliela strinsi e lo tirai giù con tutta la forza che avevo. Conrad incespicò, cadde in avanti e finì in piscina con uno spruccio ancor più alto del mio. In quel momento, penso di aver riso come non mai. E lo stesso fecero Jeremiah e Steven. Secondo me, ci sentì ridere tutta così in speech. Conrad mise subito fuori la testa e mi raggiunse con due bracciate. Io avevo paura che fossi arrabbiato, ma non lo era, non del tutto. Sorrideva, ma in maniera minacciosa. Cercai di sfuggirgli. «Non mi prendi!» dissi allegramente. «Sei troppo lento!» Ogni volta che si avvicinava, io mi allontanavo. «Lumaca!» gridai ridacchiando. Jeremiah e Steven, che stavano tornando in casa, concordarono. «È un po' lentone!» Mi venne da ridere e questo mi fece rallentare. Così Conrad mi afferrò un piede. «Lasciami andare!» Ansi mai, ancora tra le risa. Conrad scosse il capo. «Ma non hai detto che sono una lumaca?» rispose, tenendosi a galla e avvicinandosi sempre di più. Eravamo nella vasca per i tuffi. La sua maglietta era zuppa e lasciava trasparire la pelle dorata. Di colpo, tra di noi scese uno strano silenzio. Conrad mi teneva ancora il piede e cercava di rimanere a galla. Per un istante, desiderai che Jeremiah e Steven fossero ancora là. Non so perché. «Lasciami!» ripetei. Lui mi tirò il piede, facendomi avvicinare ancora di più. Trovarmi così vicina a lui mi faceva sentire frastornata e nervosa. Gliel'ordinai di nuovo, un'ultima volta. Anche se in realtà non era ciò che desideravo. «Korrad, lasciami andare!» E lui lo fece. E poi mi spinse sott'acqua. Poco importava. Stavo già trattenendo il respiro. C'è l'unico modeling. Grazie a tutti